Dalle carte medievali conservate negli archivi ci arrivano voci di poveri. Si tratta di pezzi, di biografie, scene di vite povere. Voglio raccontarvene una. Siamo a Siena nel 1309, nel mese di febbraio, e i consiglieri che erano riuniti nel consiglio del comune ascoltarono una petizione, una supplica, che veniva loro rivolta da una donna, una donna che si chiamava Nuta ed abitava vicino alla città, nei presidi Ampugnano. La supplice si definiva povera e abbandonata e riassumeva la sua storia giudiziaria, la sua vicenda processuale. Era stata accusata da un tal Guidarello che viveva nel suo paese, il quale affermava che Nuta lo aveva colpito con una falce di ferro. Beh, la donna, proprio a causa della sua povertà, non aveva potuto assumere un avvocato che la difendesse durante il processo. Il processo che dunque si era concluso con una sentenza di colpevolezza ed una sanzione da pagare una multa di 125 lire. Naturalmente, diceva Nuta, era una sentenza ingiusta perché durante il processo il suo accusatore aveva portato dei testimoni menzogneri, dei testimoni che l'avevano accusata ingiustamente. Allora, quello che a noi qui interessa di questa brevissima storia è che la mancanza di un avvocato si era rivelata fatale per Nuta, perché le aveva impedito di affrontare un passaggio chiave del processo, che era appunto la reprobazio cosiddetta dei testimoni menzogneri. Dunque, Nuta era stata condotta in carcere, non aveva potuto pagare la sanzione collegata al reato e dal carcere, dove pativa delle condizioni veramente dure, affermava la donna, scriveva e si rivolgeva ai consiglieri del comune di Siena per ottenere la grazia, grazia che naturalmente fu concessa. Ma come potevano rispondere le città alla fine del Medioevo al bisogno espresso da poveri come Nuta, che venivano coinvolti in cause giudiziarie e non avevano i mezzi per poter riferirsi ad un avvocato, ad un procuratore, ad un uomo di legge. Allora fu così che, se noi andiamo a vedere negli statuti di molte città, cominciarono a prendere piede degli organismi, degli uffici che venivano pagati dai poteri pubblici, dai comuni, per esempio a Parma, per esempio a Vercelli, per esempio a Reggio, per esempio a Bologna, ma anche a Siena. Dunque, degli uffici che contemplavano a loro interno la presenza di avvocati, dei cosiddetti giudici dei poveri. A che cosa servivano questi uffici? A promuovere la consulenza giuridica gratuita per tutte quelle persone che a causa della loro povertà non potevano spendere soldi per affrontare un processo. Se voi prendete in mano il Costituto Volgare di Siena degli anni 1309-1310, proprio dunque gli anni in cui Nuta si rivolgeva all'esecutivo, voi troverete un organo che era proprio deputato ad assumere la tutela legale delle vedove, degli orfani e di tutte le miserabili persone e povere. Un bel esempio dell'insieme di politiche, di istituti, di strutture operative che noi oggi chiamiamo sistema del welfare, che è uno dei pilastri su cui è basato il modello delle democrazie occidentali, però un bel esempio dell'insieme di istituti che nel basso medioevo le collettività urbane, i singoli individui e i poteri pubblici misero in campo per contrastare la povertà, lo trovate nel volume Alle origini del welfare, radici medievali e moderne della cultura europea dell'assistenza. È un volume del 2020 che racconta i molti modi in cui le collettività risposero, tentarono di rispondere ai molti bisogni dei miserabili e dei poveri.